Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo al terzo giorno della quinta settimana, alleneremo dorsali e spalle ovviamente. Cominciamo con la LUT MACHINE. Faremo quattro serie per 5 con 44 kg. Prima però ci andiamo a pesare. 59.80 kg. Abbiamo perso solo 100 grammi alla fine e abbiamo perso anche il 0.2% di massa grassa, portando il totale a 13.4%. Ok, fatto la LUT MACHINE, ho fatto tutte le quattro serie, voi avete visto proprio l'ultima. adesso tocca la LUT MACHINE con triangolo. Ragazzi faremo quattro serie, sempre quattro serie, per 10 con 38 kg. Quindi aumenteremo più due sulla LUT MACHINE presa a triangolo. adesso ragazzi abbiamo PULL A BASSO con 38 kg. Faremo quattro serie per otto ripetizioni. adesso ragazzi come penultimo esercizio. Faremo un esercizio nuovo. Anziché fare un rematore presa inversa, faremo un rematore al capo basso. Ragazzi, sempre sto parlando con questo coso qui, 20 kg, faremo tre serie per otto. Ciao! adesso ovviamente come ultimo esercizio abbiamo stacco ragazzi non da terra sui supporti 90 kg ebbene ripetiamo e cercheremo di fare 5 ripetizioni ok 5 ripetizioni chiuse adesso ragazzi cominciamo con le spalle è il primo esercizio sarà la military press faremo 3 serie per 5 con direttamente 38 kg ok military press fatta 3 serie completate ovviamente dopo 90 kg di stacco è una cosa mortale è molto più dura rispetto alla settimana scorsa perché ovviamente sono tutti tutte e tre le serie sono fatte da quasi 40 kg 38 kg però vabbè siamo lì e dopo 90 kg di stacco sono mortali adesso ragazzi come secondo esercizio abbiamo date frontali capo passo ci vediamo direttamente l'esercizio faremo 3 serie per 10 con quanti chili la volta scorsa abbiamo fatto 6 se non sbaglio rimaneamo con 10 kg di chirurgione rimaneamo con 10 kg di per ora ovviamente adesso tocca ai laterali faremo sempre tre serie per dieci ripetizioni però con 4 kg ovviamente rimaniamo con lo stesso peso perché sono ancora due vedremo di aumentare nella prossima settimana ma non mi prometto nulla dipende tutto da come mi sentirò ragazzi ci vediamo all'esercizio 3 per 8 scusate 3 per 10 4 kg 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 14 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 18 20 18 19 20 ragazzi allenamento terminato io vi lascio il check fisico e noi ovviamente ci vediamo con il prossimo episodio bella ciao